E ora, un avuto di vero particolare, si andiamo qui in mezzo al campo, Marco Lozza, di Madale e di Tieri Campieri di Trenta, così simile a quattro, adesso, Maria, se un applauso, andate a cento, andate a cento del campo, ragazzi, un applauso moltissimo, la copancata del regatore, Lorenzo Fabretto, nei giorni scorsi, i gabineti della cooperativa, la finestra di Madale, che hanno dopo usato la metà d'argento, adatti d'arte a compiare specialmente, siamo insieme a loro scuola di basket, un trequanto unico per questi ragazzi che hanno tenuto alto il nome dell'Italia, nel grande evento umanitario e sportivo del mondo dell'Unione XIX, in cui hanno partecipato 115 a 30 tattari, in tutte le discipline, il basket siamo noi, vuole premiare il percorso il nuovo grandissimo traguardo raggiunto, Renato Fabretto e Gini, il titolo registro con sedere l'oltre a terra, lasciamo a legno visto, complimenti ancora ragazzi, questo è l'applauso del nostro palazzetto e per voi! Bravi, bravi! Inizio di casa! Ciao Matti! Tutto bene? Ok, tutto bene! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti